Uno dei volti più discussi di uomini e donne viene asfaltato davanti a tutti Dure critiche sul suo conto, scopriamo cos'è successo. Anche questa stagione di uomini e donne è pronta a stupire tutti con continui colpi di scena Infatti sono piovute dure critiche sul conto di uno dei volti più discussi di quest'anno, a parlare un ex fiamma di amici Stupore in studio dopo le parole sul volto discusso, via screenshot, non è di certo un periodo florido per Davide Donadei di Uomini e Donne, che nella puntata trasmessa quest'oggi da Canale 5 è stato sbuggiardato da Maria De Filippi Ma per il personaggio discusso non è di certo un periodo facile visto che mentre la puntata vandava in onda, il buon Davide si è anche ritrovato una Instagram story salve triolo a lui dedicata caricata da un ex concorrente di amici Procedendo per gradi, nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto una ramanzina bella e propria di Maria De Filippi dedicata a Donadei Così la padrona di casa ha introdotto la puntata spiegando che la dama del trono over aveva subito raccontato alla redazione la verità dei fatti Una verità ben diversa da quella che il ragazzo aveva presentato su social Infatti la De Filippi ha rivelato che che fra Davide e Roberta di Padua non c'è ad oggi nessuna relazione in corso Subito dopo la conduttrice ha raccontato che la di Padua ha rivelato in modo puntuale tutto ciò che è accaduto alla luce dell'incontro con Donadei Andiamo quindi a vedere cos'è successo.Uomini e Donne, Maria De Filippi sbugiarda a Davide, tutti contro il Cavaliere Maria De Filippi contro Davide, via web sorce Maria De Filippi durante la puntata di ieri ha fatto notare che la stessa domanda che è stata fatta a Davide non ha ricevuto la stessa risposta sui social Ha deciso quindi di entrare nella conversazione anche Chiara Rabbi, supportata dal popolo del web, che racconta di aver spesso litigato con Davide per i messaggi sospetti scambiati con Roberta Infatti l'extromista ha ammesso che fra lui e la di Padua era scattato un bacio dopo quella cena Inoltre Roberta ha tenuto a sottolineare che quando Davide sedeva sul trono c'era sempre stato un interesse reciproco A questo punto la di Padua ha anche specificato che i messaggi incriminati che si erano scambiati erano assolutamente innocui Mentre invece nel pomeriggio la ballerina concorrente di Amici 20 ha condiviso una story salve triolo dedicata a Donadei L'ex allieva del talent show ha quindi scritto, con me, con Roberta e chissà con quante altre Poi ero io che creava hype, la danzatrice ha quindi concluso mandando un messaggio alla di Padua ed affermando, tranquilla Tanto con me problemi di età non se li è fatti, robe è. Vai Davide no, continua a fare queste figure di n Grazie a tutti